Perché? Dico, no, no, niente, niente. Dico, noi in macchina ne parliamo. Non è così. Perché le donne sono furgue. Ecco perché sono Highlander. Perché lei non ti dirà mai quanto hai pagato. Perché lei quanto costava? Lo sapeva. L'unico che non lo sapeva. Eri te. Asci ridi? Ti faccio un esempio, una casistica. Lei si compra un paio di scarpe rosse, bellissime. Tu le vedi e fai, oh, Alessandra, che belle scarpe rosse. Tu gli fai una domanda. Che lavoro fai tu? Il rappresentante. Quanta la pagate? Ma così una frase per chiudere un discorso. Lei non ti dice il prezzo. Ti dice, secondo te? E ora il prezzo lo devi fare a te, amico mio. Fa un buon prezzo di un paio di scarpe rosse e belle. Di un prezzo? 200. Sì, 200. E io spendo 200 per un paio di scarpe. O pagare 35 al mercatino qui il giovedì, perché io ho occhio. E vabbè, se era per te, 200. Capite il signor? T'attacca. Prattente quadra. Ma la cosa fai? Prendi le scarpe e le nascondi in box. Al box. Dopo 3-4 giorni fa lei. Ah, Maurizio, hai visto le scarpe? No. Le ho messe qui. C'è un diavolo. La casa è indemoniata. Tocca chiamare l'esorcista. Mi sta a venire l'esaurimento. Dico, eh, l'esaurimento. Per 25 euro. Sì, 3,50 ho pagato. 3,50 l'ha pagato. Ti è successo questo? Sempre. Ma la logico, io a una, stavo fidanzato pure, oltre che sposato, ma a un certo punto mi ha detto, una mi fa, senti un po', da ragazzetto, quanto hai da parte tu in banca? Ah, io ho detto, niente, sono cinque anni che uscivo e pago io, ci devo e te i soldi, oh, che cazzo va? Pago sempre io, ci devo e te i soldi da parte, oh. Vediamo un po'. Andiamo a casa, non si parla di tranquillite, e a casa troviamo. Sergio è un amico mio, elettraudo, più ignorante di me, perciò capiamo un livello. La moglie mi sono, le donne si mettono da una parte, e l'omini, st'amico mio, che insciafruglia pure le parole, ma ha fatto qualcosa? Dico, ho fatto, ho fatto. E che c'è? Ma, ma io non lo sapevo, ma lo sai quanto ho pagato, se stai tranquilli? Una volta la fa? 160 ti hanno rubato i soldi. 160 ti hanno rubato i soldi. Io ho pensato, mo, l'art di 900, come ti dico a questo qua? E ho fatto, Sergio, ma quale è 160? 1060. Lui, mille! Perché è sempre la stessa accademia di arte. 1060. Me fa, bello ignorante fa, 1060. Vabbè, mica gli avrai dati. Dico, infatti non gli ho dati perché in Ciaveo, gli ho dato la carta di credito. Cioè, a che ora? Dico, un'oretta fa. Ma la denuncia la blocca molto. Cioè, nulla a pagare, se c'è. E va bene. Però è così. Insomma, alla fine è uscita la signorina Anna. 1060. Spesi bene. Questo è il ragazzo. Ristorante. Ristorante. Sì.